Si comincia ora, dopo tutto questo tempo ad allenarsi, sì, la Coppa Italia, c'è stata la Coppa Italia, però non è mai campionato, quindi non vediamo l'ora di riniziare, domani saremo già in battaglia e siamo pronti. L'Econa è una matricola, anche se è già stata in diversi anni in categoria, arriva da un campionato che hanno stravinto, è una squadra che fa dell'entusiasmo alla loro forza, ha dei buoni giocatori, è una squadra da prendere con le pinze perché domani sarà una battaglia vera. Dei nuovi solo Corrado può essere della partita, Fabio si riporta alla squalifica dello scorso anno, Lorenzo ancora non ha dei piccoli ecciacchi, speriamo in quest'ultimo frangente di recuperare Nello, però chi scenderà in campo darà del filo da torcere per portare a casa un risultato importante. Io sono qui per fare qualcosa di importante, nella mia vita ho stato sempre ambizioso, quindi ambisco a migliorare quello che c'è già stato, so che il campionato sarà lungo, difficile, avremo dei momenti da superare, però sono qui per fare qualcosa di importante insieme a tutti i ragazzi. Ma sinceramente non ci sto pensando perché ho la fortuna di allenare un grande gruppo, quelli che finora ho chiamato in causa mi hanno dato sempre una risposta importante e sono fiducioso.